Io mi ricordo quando eravamo nell'ospedale vecchio, agli inizi della mia attività cardiologica, l'infartuato stava a letto immobile per un mese, prima di mettere giù i piedi dal letto, proprio letteralmente. La diagnostica era lasciata molto alla semiotica. Una volta lo studio dei sintomi, dei segni, era uno dei segni particolari. Le diagnosi di polmonite, di pleurite, di tubercolosi, eccetera, una volta venivano fatte con le orecchie e con un cervello in mezzo, con un fonendo, con le orecchie e con un cervello in mezzo alle orecchie, dico io, e si era abituati, si imparava a cogliere i segni. Quindi l'esame obiettivo del paziente, cioè la visita completa del paziente, richiedeva molto tempo, molta attenzione e molte capacità, perché era, non tutto, però la stragrande maggioranza dei segni che dovevano illuminarti sulla diagnosi, li dovevi cogliere visitando il malato, più che dalla tecnica. Adesso, va bene, le lastre del torace si facevano ancora, ma stiamo sul cuore. Allora avevamo praticamente solo le retrocardiogramme. Adesso ripensando ormai 17-18 anni dopo, praticamente sono arrivato il primo dicembre del 99, quindi col gennaio 2000 in sostanza, però già in ottobre 2000 abbiamo cominciato a fare le coronagrafie, che è stata una cosa stupefacente. La mia direzione ha detto non è possibile, non ci crediamo che entro l'anno tu possa iniziare il trino e l'emodinamica. Sembrava una cosa stupefacente per allora fare la coronagrafia. E devo dire che sono stati molto bravi, non cimilanti, perché per farla non c'era lo spazio e hanno accettato la mia sfida. Chiudiamo due stanze di indigenza, che sono quattro posti letto con due bagnetti, due cammelle vicine, e l'enunciamo a quattro posti letto e li facciamo la sala cateterrae all'interno del reparto. Ma perdi i quattro letti, non preoccupatevi, ugualmente con un quattro letto in meno vi garantisco molti più ricoveri lo stesso, perché io sono passato in quegli anni da venti posti letto, che con una media di circa 60-70 ricoveri al mese, ricoveri ordinari al mese, pur con quattro letti in meno, già sei mesi dopo avevo 130 ricoveri. È impegnativo fare oggi responsabile di un reparto. Se poi ci si vuole stare anche a un livello valido dal punto di vista scientifico, culturale e aggiornati, non si può fare altro. Non esiste sabati né domenica, non c'è nulla. per me, ma già che adesso è ancora così. Io il sabato e la domenica faccio tutto quello che faccio durante i giorni fariali. Capisce? Però devo dire che il lavoro lo fa a malare, soprattutto se il lavoro viene fatto con passione, non dico con divertimento, ma con gratificazione e con entusiasmo e con desiderio in sostanza, un rendersi utile. La vita per me è fatta così, una vita. Una vita diversa non la considero nemmeno. Io sono venuto a Crema con un progetto, un progetto che era quello di potenziare la cardiologia dell'ospedale maggiore di Crema e potenziare soprattutto l'elettrofisiologia interventistica dell'ospedale maggiore di Crema, che già aveva una tradizione che era stata iniziata dal dottor Rinala. Un rinnovamento completo dell'attività elettrofisiologica e un aumento della complessità delle procedure interventistiche che si fanno. Cioè è stato un grosso sviluppo ed è stato anche un grosso investimento da parte dell'azienda ospedaliera. Nel senso che l'azienda ospedaliera ha investito facendo una nuova sala di elettrofisiologia con un'apparecchiatura angiografica di ultima generazione, con la possibilità di fare per esempio l'angiografia rotazionale e la ricostruzione tridimensionale delle camere cardiache e poi l'azienda ospedaliera ha acquistato un nuovo sistema di registrazione dei segnali endocardici per la parte elettrofisiologica, un sistema computerizzato di ultima generazione che serve per trattare le aritmie più complesse, le immagini ottenute con l'angiografo, con la rotazionale oppure con la TAC vengono importate all'interno del computer e noi muoviamo i cateteri, cioè i nostri fili per la parte diagnostica e per la parte della terapia delle aritmie all'interno di questa immagine, di questa ricostruzione tridimensionale portata nel computer. Quindi questo consente di fare ablazioni molto complesse, in aritmie complesse, usando poche radiazioni, cioè poca scopia, quindi con un grosso vantaggio per il paziente e anche per il medico e con una probabilità di successo molto elevata. È stata volontà nostra di istituire degli ambulatori specialistici, super specialistici, in modo che queste varie patologie trovassero una risposta specifica sempre costante per quella patologia. Questo non voleva dire che c'era il medico pneumologo che si interessava solo di quello, però quell'ambulatorio lo seguiva lui e quindi le fila le tirava lui, con il contributo di tutti, ma le tiravoli. Quindi era una questione veramente di dare una disponibilità e una continuità decisamente specialistica alle richieste che vengono. Certamente c'è stato un impegno notevole, per tenere conto che comunque la pneumologia è partita inizialmente con un primario, un aiuto e un assistente. La pneumologia è diventata poi un primario, due aiuti e sette assistenti, quindi la ricamante sia potenziata sicuramente. Per quello che riguarda le patologie riferite appunto alla pneumologia, il territorio di Crema aveva delle evidenze, delle caratteristiche diciamo uniformi a quello che è il quadro nazionale, il quadro comunque dei territori intorno o aveva delle peculiarità per cui certe forme, certe patologie più consistenti? Sì, direi che quando noi ci confrontavamo appunto con i dati nazionali eravamo leggermente forse sopra per quanto riguarda la patologia tumorale, il tumore al polmone, soprattutto eravamo parecchio sopra per quanto riguarda la patologia tumorale della pleura, i mosetogliomi, infatti io avevo proposto, non c'era nessuno schema di come affrontare questa patologia, non dal punto di vista terapeutico, anche purtroppo dal punto di vista terapeutico, ma soprattutto come seguire questi pazienti. Mentre nel caso del tumore polmonare c'erano già le linee guida che dicevano che cosa fare di fronte a un nodulo polmonare, dopo quanto tempo rivederlo, dopo quanto tempo rivalutarlo, che tipo di diagnostica fare, per quanto riguarda il besotto idioma queste linee guida non c'erano, tanto che noi ne avevamo fatto una noi, quella che avevamo presentata in regione, la regione ci ha cooptato come centro per stendere una linea guida che valesse questa situazione regionale, poi passata a livello nazionale, c'è stato un gruppo di studio a livello nazionale sul besotto idioma di cui abbiamo fatto parte, e da allora ci sono delle linee guida sempre non così codificate. Noi avevamo il nostro schema che si allineava a quello, lo seguivamo quando vedevamo un paziente con il rischio di misotelioma, perché aveva lavorato, cioè questo l'avevamo chiamato tutti i pazienti che avevano lavorato. Ecco perché c'è stata la famosa vicenda dell'Ina. Sì, tutti i pazienti che avevano lavorato in questa industria, quindi con un rischio potenziale notevole, facevamo tutti l'attacca, se c'erano delle lesioni sospette in base al tipo di lesione, dimensioni alla durata dell'esposizione, c'era un algoritmo che ci permetteva di dire questo lo vediamo fra sei mesi, questo lo vediamo fra otto mesi, questo lo vediamo fra tre mesi eccetera. Questo deve essere diagnosticato subito e noi seguivamo questo qui. Quando poi c'è stato il passaggio dalla patologia della prevenzione tutta le AS, la Cremona eccetera, questa linea guida noi l'abbiamo consegnata a loro e so che adesso c'è un centro livello dell'azienda territoriale sanitaria che ha codificato per tutta la regione in pratica, quindi diciamo che siamo stati i primi a portare avanti questo discorso e a dare almeno inizialmente delle linee guida. Attualmente la gestione proprio sul territorio, quindi sul paziente a domicilio, prevede la collaborazione con le cure territoriali che sono unità operativa che afferisce al dipartimento riabilitativo e quindi questo ci favorisce l'integrazione che fino a poco tempo fa non c'era. Per adesso per esempio è stata strutturata una gestione del paziente domiciliare del paziente con la SDA che quindi ha già un percorso fatto con un servizio territoriale di quindi valutazione a domicilio con eventuale ricovero in pneumologia o in terapia intensiva respiratoria nel caso non si riutilizzasse con la successiva transito in riabilitazione respiratoria oppure un monitoraggio di riabilitazione quando serve. Noi adesso abbiamo le strutture e diciamo le risorse per poter gestire magari in maniera proattiva cioè andando a dare noi degli appuntamenti al paziente, facendo venire il paziente però ancora in ospedale che sia crema piuttosto che rivolta ad Anna perché non abbiamo ancora risorse per poter andare a casa del paziente. Abbiamo fatto per esempio negli anni scorsi una sperimentazione in cui mandavamo il fisioterapista respiratorio in pazienti in coordinate a domicilio e questo è stato molto efficace perché facevano la stessa attività che poi può essere fatta durante un ricopro meditativo a domicilio del paziente. Il problema è quello di poter fare, potrebbe avere le risorse per farlo perché se si chiede con lo stesso personale di fare l'attività ospedaliera, l'attività domiciliare del paziente siamo in difficoltà. E' detto che questa riforma, la nuova riforma con le ASST, quindi l'unione praticamente del sanitario con il corso sociale può servire e può migliorare le cose in questo senso? Può migliorarlo dal punto di vista teorico sì, ma ripeto bisognerà però non decideri risorse perché altrimenti a livello volontaristico si fa tanto ma non è possibile fare tutto. Rispetto all'inizio eravamo nella fase in cui c'era la sfora che con il limetto faceva le punte agli aghi. Faceva la punta agli aghi? Per dire che eravamo a questi livelli e siamo arrivati poi ad avere, usare tre agli per fare una puntura. che uno si è arrivato a tirare il farmaco, uno a iniettare la prima fetta di farmaco e poi il definitivo. E' un bel esempio di passaggio questo. No, andando indietro si vede come sono stati fatti tanti passi e tante azioni che tiravano fondamentalmente a dare sempre più sicurezza. E' paziente. Perché tutto questo giocare con gli aghi era il primo rispetto per il malato, no? Certo. Cioè ti uso una cosa che non è mai stata usata, adesso lo uso con te e sarà solo con te. Certo. Non andranno a intaccare, dopo noi diciamo infettare la gente perché viene tutto cambiato, secondo le persone che non lo usano appunto. Questo è il concetto di sicurezza. Il soggetto in emodialisi è un soggetto che ha molte complicanze, come dicevo, cioè ha molte malattie e di conseguenza il nefrologo è chiamato in prima battuta a confrontarsi con questi disturbi collaterali e quindi ad esercitarsi sulle problematiche di tipo ematologico, ortopedico, cardiologico soprattutto, neurologico, ematologico, internistico, oncologico quando sono questi problemi proprio perché il nefrologo deve rispondere ad una persona che è davanti e non può certamente solo guardarlo con l'ottica della sua fessura diciamo così specialistica. C'è anche il nostro intervento in unità coronarica perché anche in unità coronarica dove un paziente infartuato o con delle aritmie molto severe ma comunque per lo più infartuato presenta anche come complicanza una insufficienza anaria acuta oppure già un paziente che ha problemi renali noi possiamo fare dialisi in unità coronarica quindi in un'altra terapia, in un altro settore intensivo dove quindi questo elemento terapeutico come è la dialisi da un supporto vitale per il paziente e logico. Si è potuto fare grazie secondo me all'impegno degli operatori. Io sono un grande sostenitore del sistema sanitario pubblico.